Punisce Avellino con il caressol in bianco Bianco è già dall'altra parte per Deleo che può appoggiare, non trova il canestro ancora bianco a insistere lì sotto alla fila, la meglio numero 7 con l'estero di tutti, a giocare a Bungible con il ferro e parte allora, tanto cuore con il bianco, c'è l'altra parte, è bello il caressol Quasi da casa a cercare questa tipa, bella per lui C'è l'impacto Tiro pulito da 3 per Andrea Bianco Lascia partire la tripla e mette anche questa Balla per Bianco, prova ancora il tiro da 3 Andrea Bianco 4 secondi al termine dell'azione Andrea Bianco Ferma, prova il tiro da 3 E c'è, c'è la bomba di Andrea Bianco Una sirena Ciao 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 Grazie a tutti.